Direttore, è una giornata importante oggi con la riapertura della camera iperbarica qui a Larino? Sì, sicuramente è una giornata importante che segna il passo per una ripartenza importante. Abbiamo riaperto questa camera iperbarica che, come dicevo, forse stava da un po' di tempo in quiescenza, però siamo certi che la potenzieremo quanto più possibile in modo da poterla far diventare davvero centro di riferimento. È già un centro di riferimento per un territorio molto vasto che va dall'Abruzzo alla Puglia per circa 700 chilometri, quindi diciamo che diventa il punto importante per il trattamento di patologie croniche se ci riusciamo anche, ovviamente avendo anestesisti a disposizione anche per quanto riguarda le patologie acute, visto che tra l'altro ci troviamo qui al ridosso di zone di mare, per tale motivo diventerà importante avere questo riferimento per le patologie acute anche dei subacquei. Sicuramente questa integrazione col privato è importante, tra l'altro ci ha dato la possibilità di iniziare, di fare questo start up proprio con loro, avendo a disposizione degli anestesisti per 20 ore settimanali in fase iniziale, in fase sperimentale, che aumenteranno ovviamente nel momento in cui verranno, noi abbiamo fatto un bando, un avviso per anestesisti da dedicare alla camera iperbarica. È pur vero che queste figure emergenziali, anestesisti, persone del 118, medici di pronto soccorso non se ne trovano, però qui siamo su una posizione totalmente diversa, cioè qui abbiamo degli anestesisti da dedicare ad un qualcosa di particolare. Su questo ovviamente noi puntiamo perché in questo caso potremmo avere degli anestesisti dedicati alla camera iperbarica che hanno studiato per la camera iperbarica e per tutte le terapie ovviamente da mettere a disposizione ai pazienti che ne hanno necessità e quindi io spero che queste figure potrebbero arrivare qui al lavrino e dare lustro a questo centro di iperbarica.